La manifestazione non autorizzata sulla piccola isola, episodio sul quale la proprietaria dell'isolotto ha poi dato una versione diversa, ha probabilmente smosso ancora di più le coscienze sulle condizioni in cui si trova quella riserva naturale e protetta che sorge di fronte al comune di Isola delle Femmine. 35 volontari e volontarie italiani e stranieri saranno infatti impegnati in diversi round per la pulizia, la rimozione di rifiuti e per la cura e la manutenzione del verde. Un'attività che si ripete comunque da circa 20 anni ma che adesso, a causa di quella festa non autorizzata, ha assunto probabilmente maggiore risalto. L'attività dei volontari organizzate dalla Lipu e dai Forma Giovani hanno ricevuto il sostegno del programma Corpo Europeo di Solidarietà. Volontari e volontarie arrivano da 11 paesi diversi oltre che dall'Italia, Ucraina, Portogallo, Francia, Spagna, Bulgaria, Finlandia, Turchia, Polonia, Croazia, Germania e Spagna. Il primo gruppo di 11 volontari, già nella prima mattinata di lavoro, ha riempito oltre 10 sacchi di rifiuti nelle zone più basse dell'isolotto. Tantissimi anni rinnoviamo la collaborazione con l'Associazione Informa Giovani che ci porta tanti volontari stranieri sull'Isola delle Femmine per collaborare a tante attività gestionali. Una molto importante è nella raccolta dell'immondizia che le mareggiate portano costantemente sull'Isola. Non è questa l'unica attività nella quale ci danno una mano questi ragazzi. La sistemazione dei sentieri, le attività di ripristino ambientale, una bellissima collaborazione gratificante sia dal punto di vista gestionale ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo iniziato ad ospitare i progetti di volontariato di gruppo finanziati dal Corpo Europeo di Solidarietà che portano qui per due settimane due gruppi di 15 volontari provenienti da diversi parti d'Europa. Da quest'anno abbiamo anche iniziato una collaborazione con l'Università di Kiev. Il nostro intervento, il nostro impegno insieme alla LIPO ormai va avanti da oltre 20 anni e abbiamo portato su quest'isola tantissimi volontari. Sono originario di Isola delle Femmine ma per lavoro vivo in Ucraina, a Kiev. Queste due ragazze sono miei studenti e quest'anno abbiamo avuto grazie alla LIPO e a Informa Giovani l'opportunità di far venire queste due ragazze a fare volontariato. Un'occasione per far uscire questi ragazzi da un contesto bellico. Quindi è la prima volta che escono da quando è iniziata la guerra. Sono studentessa dell'Università di Kiev e grazie alla LIPO possiamo stare qui e aiutare l'isola e magari anche vedere i posti belli dell'Italia perché l'isola è molto bella, meravigliosa.